E' grave, una turista australiana incornata da uno dei tori lasciati liberi per le vie di Pamplona in occasione della festa di San Firmino. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Si è chiusa con un bilancio sanguinoso la tradizionale fiesta dedicata al santo patrono della capitale della Navarra. Nei giorni precedenti erano stati una ventina i feriti.